Il compito del punto info è quello di dare informazioni alle persone che vengono, di smistarle nei vari punti, di fargli capire quali sono i laboratori che noi facciamo qui, quello della ceramica, quello del pane, la fattoria didattica. Io non ce l'ho mai stato. Tu ce l'hai stato papà? Sì. Quando mai? Vuoi salutare? Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata. Veramente è un posto incantevole per i bambini, per stare con la famiglia. È una bella soddisfazione anche perché queste sono occasioni di crescita personali anche ed è bello sempre vedere bambini, ragazzi diversamente abili o comunque ragazzi speciali, divertirsi e diciamo esprimere al massimo le loro qualità. Quindi quando ci sono queste occasioni sono e siamo sempre contenti. Sì, per varie feste di compleanno, di bimbi, insomma, è una sicurezza questo posto. Abbiamo convolto altri amici che non conoscono la realtà e sono molto entusiasti. Noi siamo già stati qui però parecchi anni fa. Ah, quindi era passato qualche anno? È passato tanto e ci sono tante tante cose. Avete trovato novità? Sì, prima c'era solo la sala principale e invece adesso c'è tutto questo.